Anticipazioni Beautiful. Giovedì, 21 gennaio 2021. Ridge, riaccompagna Shauna, alla Dependance. Lei, lo ringrazia per l'invito, e si augura di essere stata definitivamente inclusa, nella lista delle sue amiche. Ridge, la guarda in maniera languida, e le dà un bacio, molto appassionato. Ad un tratto, la Fulton apre gli occhi. Stava soltanto sognando. Hope, a party terminato, accompagna Douglas a nanna. Il piccolo, va a lavare i dentini, e la giovane, resta sola con Thomas. Questi, ammette di essere troppo felice. Il suo bambino è confortato, finalmente, dall'amore di una vera mamma. Ammette di essere molto dispiaciuto, per aver taciuto su Beth. Messo a letto il bambino, Hope, si reca nella camera di Thomas, e gli confida, di voler tornare a far parte della vita di Douglas, in maniera totale, e completa. Lui, ammette che vorrebbe tornare indietro nel tempo, per non rifare gli errori che ha commesso. La Logan, però, lo spiazza, dicendogli che lei, non vuole. Ecco perché, intende adottare Douglas. Thomas, risponde che non potrebbe mai accettare, di rinunciare a suo figlio. Hope ribatte, di non volere questo. E ne approfitta per parlargli di una legge, che in California, le consentirebbe di adottare lo stesso il piccolo, senza vincoli con lui, che è il padre. Thomas, trova molto interessante tale opzione, ma lui ammette di averne una migliore. Ha bisogno di lei, anche per una sola notte. Solo se si concederà, potrà avere la custodia esclusiva, di Douglas. Grazie a tutti.